Siamo veramente contenti con questa vittoria, avevamo bisogno anche, e certo che sono contento con il mio gol, però soprattutto con questa vittoria. Robin, e che gol hai segnato? Secondo me un bel gol, è stato abbastanza difficile, però è toccato bene e sono felice che è andata dentro. Importante vincere, importante muovere la classifica, importante tornare a fare l'Atalanta. Certo, abbiamo già detto che avevamo bisogno di questa vittoria, anche le ultime partite non abbiamo giocato male, però è mancato sempre qualcosa, ultimo passaggio, ultimo tiro, quindi adesso abbiamo fatto un'ottima gara secondo me, con cinque gol e così vogliamo continuare. E che dire dei 3.000 da Bergamo qui al Bentegodi per incitarvi, per spronarvi, per insomma urlare Forza Atalanta? Un momento magico per noi, se tu vedi quando entri in campo 3.000 tifosi è una cosa veramente fuori classe, un'altra categoria, quindi anche complimenti dei nostri tifosi, veramente una cosa pazzesca e stimola molto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.